Ciao fiocchini! Ieri è successa una cosa brutta. Il mio video di ieri, quello che si chiama libri che non ho letto e sono lì a prendere polvere, ha ricevuto un commento. Che è una domanda, tra l'altro. Pure interessante. A cui rispondiamo oggi. Vi leggo dopo qual è il commento, ma intanto il tema è libri lasciati a metà. Vi faccio vedere il primo libro di cui ho ricordi che ho lasciato a metà. Ed è proprio questa edizione qui. Italo Calvino, il barone rampante. Non è un brutto libro, ma è interessante sapere perché l'ho lasciato a metà. Adesso lo vediamo. Vi leggo il commento, poi parliamo di Italo Calvino e cerchiamo di dare una risposta a questa domanda. Allora, il buon Francesco, che credo di conoscere da circa 24 anni, ci scrive Vorrei un tutorial per capire come leggere un libro, perché tante volte la tecnica aprilo dopo le 22, vai avanti a oltranza porta a una montagna di libri iniziati lasciati lì. Serve qualcuno che stia leggendo il libro nello stesso periodo per parlarne e stimolarsi? Questa è una domanda interessante. O cambiare orario? O cambiare genere? O sono solo un lettore svogliato? O non so leggere? Grazie. Quindi, domanda molto interessante. Partiamo dal principio del... Sono solo idee mie, non è che ho la verità in tasca, ma comunque sia, perché lasciamo un libro a metà o perché ne leggiamo poco e a un certo punto l'abbandoniamo? I motivi sono vari, ma secondo me la cosa importante che bisogna pensare quando uno legge un libro è che sta facendo qualcosa di intrattenimento, no? È come guardare un film, è come guardare una serie tv. Non siamo obbligati a leggere. Ok? Lo facciamo perché ci piace. Nel momento in cui non ci stimola e non ci piace, come dice anche il buon Daniel Pennac nel famoso 10 diritti del lettore. Il diritto numero 3 è il diritto a non finire un libro. Ok? Il diritto 2 è saltare le pagine, tra l'altro, che è un'altra cosa molto interessante. Comunque sia, il diritto di non finire un libro. E dice è colpa dell'autore? È colpa nostra? Che erroneamente indotti dalla copertina o dai testi di quarta ci aspettavamo tutt'altro? L'ideare sarebbe riprenderlo dopo un po' di tempo e vedere che succede. Ok? Comunque sia, la cosa importante è che è una cosa che si può fare perché noi leggiamo per piacere. Ora, torniamo a Italo Calvino. Il barone rampante. Questo sono stato obbligato a leggerlo dalla professoressa delle medie di italiano. Ok? E sta proprio nella parola obbligo il motivo per cui non l'ho mai finito. Ma in realtà mi mancavano tipo 20 pagine. Ok? È solo che a me di leggere perché bisogna leggerlo per forza non mi andava. Ok? Quindi mi sono rifiutato di andare avanti. Così ho confessato questa cosa. Cosa importante. Quindi leggiamo quello che ci piace leggere. Ok? Ad esempio, io mi sono accorto dopo mille anni che a me i libri di narrativa piacciono molto poco. Ne leggerò due all'anno. Ok? Quindi, semplicemente io non leggo libri di narrativa perché so che se l'inizio li lascio a metà. Quali libri mi piace leggere? I saggi, come forse avete capito dagli altri video. Quindi che cosa faccio? Leggo solo saggi. E di saggi non posso leggere una buona quantità in verità perché proprio mi interessano. Cioè se lo inizio ho voglia ogni volta che lo lascio lì che ho letto un'oretta al giorno dopo mi viene voglia di continuare a leggerlo. Quindi, consiglio numero uno che diamo a Francesco che do a Francesco perché sono io che parlo trova un libro che vuoi leggere. Un genere di libri che vuoi leggere. Non c'è un libro giusto un libro sbagliato da leggere. Non c'è un libro giusto un libro sbagliato da leggere. Non c'è un genere giusto un genere sbagliato. E' una cosa che per esperienza gli insegnanti delle superiori ti danno un po' questa idea. Devi leggere solo i classici. I classici sono l'unica letteratura che devi leggere. I libri meno impegnati o di altro genere non sono vera cultura. Leggere un thriller non è cultura. Devi solo leggere che so Kundera. Non è vero non ho mai consigliato Kundera. Devi leggere Salinger. ok? Vabbè ce l'ho da qualche parte tra l'altro. Non ce l'ho qui. Devi leggere Salinger. Devi leggere boh cosa consigliavano? Ah il deserto dei tartari. La noia più assoluta dei libri mai scritti. Quindi consiglio uno ti scegli un genere. Consiglio due non sei obbligato a leggere. Ok? Quindi semplicemente se non ti va non farlo perché non lo stai facendo di lavoro. Ok? Consiglio tre però se proprio vuoi leggere qualcosa ok? Ci sono dei metodi per diciamo così accompagnarti alla lettura. Questo consiglio numero uno che ti do io comprare un ebook ridere in questo caso un Kobo con il libro che sto leggendo adesso che è Il problema dei tre corpi ecco un po' di narrativa ogni tanto la leggo anch'io però è fantascientifica è molto scientifica tra l'altro comunque sia perché? Perché questo è illuminato beh un Kindle è insomma la marca che ti pare perché per me questo è illuminato e mi permette di leggere a letto invece per vari motivi non riuscirei a fare altrimenti quindi questo supporto mi crea un momento che altrimenti non avrei potuto dedicare alla lettura ok? Quindi è una buona spesa poi se non ti interessa averceli cartacei è ancora meglio se è a posto puoi avere una quantità infinita anche i libri grossi i libri piccoli quindi secondo consiglio comprarsi un ebook reader consiglio tre scegli bene i libri da cui iniziare cioè hai scelto il tuo argomento cardine ma come fai a partire? ok? io ti do dei consigli a caso cioè se voglio dire a te piace il fantasy ma hai iniziato cento volte il signore degli anelli e cento volte lo hai lasciato a metà se lo inizi la centunesima lo lascerai a metà anche la centunesima quindi ci possono essere dei libri più adatti perché più piccoli più semplici magari meno complessi meno pesanti che ti possono iniziare dopo aver letto quel libro lì deciderai magari di guardarne uno più grande ok? sarai entrato nel mood vediamo qualche consiglio di vari generi ok? infatti questo potrebbe essere un consiglio proprio aggiuntivo consiglio aggiuntivo è parti da qualcosa che ti piace che già conosci ad esempio ti piace Fight Club di Palahniuk ok? leggi il libro di Fight Club è probabile che lo finirai perché è una storia che già conosci magari non hai visto il film ultimamente ma comunque questo è in inglese ma vabbè leggilo in italiano ma comunque è probabile che lo porterai a termine hai già letto Fight Club leggi sempre di Palahniuk che ne so soffocare ad esempio un altro libro di Palahniuk è probabile che se ti è piaciuto Fight Club l'hai letto con piacere leggerai anche soffocare e sì soffocare con piacere soffocare con piacere tra l'altro molto interessante oppure ti piacciono i film thriller ok ti piacciono i film di tensione esempio è un libro a caso Carrisi il suggeritore sembra un librone ma è scritto gigante ve lo assicuro ho perso il segno per sempre è scritto gigantesco non è molto lungo effettivamente si legge in qualche ora è un thriller senza pretese adesso non è alta letteratura però si legge piacevolmente come dicevo prima questo forse no come libro iniziale è un po' pesantino ma se ti piace invece le robe più non vuoi leggere qualcosa che non sia letteratura ci sono delle cose che si possono leggere ho tre consigli che ti possono piacere perché questi sono libri che sono effettivamente di letteratura e sono effettivamente brevi abbastanza brevi e bellissimi quindi questo è il classico dei classici doppia edizione identica così perché mi piace questo è il mio libro preferito di sempre ovviamente 1984 di Orwell non ha bisogno di presentazione questo è probabile che se lo inizi cioè non puoi lasciare la metà è impossibile lo leggi per forza sempre letteratura questo è un po' schifato dai molti dai più Siddhartha di Ermanesse però vabbè dai è una delfi bellissimo libro ambientato in India è un misto tra un romanzo e un saggio di filosofia di vita mettiamola così anche questo è uno di quelli che lo leggi a 18 anni ha un senso lo leggi a 25 un altro senso a 32 un altro senso ancora questo è uno di quelli che davvero uno puoi rileggere una volta ogni 5 anni e ogni volta sarà diverso sarà incredibile anche questo brevissimo poi altro libro bellissimo in un'edizione orribile Notti Bianche di Dostoevsky altro libro capolavoro questo ma si leggerà in un'ora credo queste sono 100 pagine in questa edizione orribile da Newton Compton Le Notti Bianche ok questo è sempre diciamo alta letteratura non vuoi leggere la letteratura vuoi leggere qualcosa di un po' meno fantasy ad esempio ah perfetto perfetto esempio da dove inizia questo soprattutto se a una persona piace ovviamente i giochi di ruolo comunque sia è in edicola con la cetera solo per farvi vedere che costa 2,99 euro adesso in edicola quindi assolutamente abbordabile romanzo fantasy uno dei più venduti in questo caso è Drizzt quindi la leggenda di Drizzt oppure quell'altro i Draghi del Cropposco d'autunno questi qua sono sempre dei libri allora se conoscete già i giochi di ruolo perfetto perché sono proprio scritti pensando a un party classico di un gioco di ruolo quindi vi aiutano cioè vi medesimate molto facilmente perché è esattamente quello che fate al tavolo ma altrimenti se invece non conoscete i giochi di ruolo sono degli ottimi libri così introduttivi al genere fantasy cioè non vi dico di iniziare da cioè se iniziate con la compagna dell'anello questa poi è l'edizione della buon pianeta più bella mai fatta rimarrà lì beh un altro libro era ovviamente Harry Potter non è che tutti abbiamo letto Harry Potter quindi ve lo sconsiglio piuttosto che leggere il signore degli anelli se proprio dovete leggere qualcosa si vede la strada sulla strada quando i Kerouac lo Hobbit invece di iniziare col signore degli anelli leggete l'Hobbit che non so perché è un po' schifato dai più anche questo però secondo me è anche più bello del signore degli anelli qui lo dico e qui la nego e se invece non ti piace nessuno di questi generi che ho detto ok sono un milione di libri che si possono consigliare ne so nel bianco di Ken Follett un libro un po' più corposo storico come Falcones e la catterale sul mare oppure oppure non ti piace la narrativa ma ti interessa la corsa Murakami che l'arte di correre in questo caso è proprio una sorta di saggio diario di corsa di Murakami che è un grande maratoneta un grande appassionato di corsa se poi lo leggi e ti piace lo stile magari potresti leggere altro di Murakami che ovviamente non scrive solitamente di corsa oppure vabbè questo libro ve l'ho già consigliato ti piace la scienza in generale la divulgazione scientifica un ottimo libro con cui iniziare è questo sempre The Grass Ties una storia fisica per chi va di fretta un librettino piccolissimo che costa 13 euro 14 euro è perfetto questo è è impossibile iniziarlo e non finirlo ok oppure ipotizziamo ti piace la medicina o fai il medico di lavoro e quindi diciamo questi sono anche dei libri utili ok oltre che interessanti questi qua se ti piace la medicina li leggi per forza ad esempio questo è un libro sulla morte il rapporto morte pazienti morte dei pazienti eccetera Sherwin B. Nuland davanti alla morte oppure sempre questo si chiama Siddhartha come il libro di Armanesse di prima ma è un altro Siddhartha ovviamente questo lo conoscete forse per un altro libro quello sul cancro che ha consigliato anche Bressanini ultimamente in questo caso le regole della cura non leggo il nome non mi non ci provo nemmeno ecco l'imperatore del male si chiamava il libro sul cancro comunque sia questo è un libro dove sostanzialmente Siddhartha parla di come fare buona medicina cioè che differenza c'è tra avere tante conoscenze ed essere un buon medico in sostanza facciamo riassunto rapido quindi questo è siccome se ti piace l'argomento è probabile tu voglia leggere questo cioè una volta che l'hai iniziato vuoi arrivare fino alla fine perché capisci che ti è utile finisco i consigli con altri due libri che ho già consigliato in verità i due libri di salvo di grazia medicina e bugia salute e bugia con lo stesso principio di questi qua degli ultimi due che vi ho consigliato se vi piace la medicina ovviamente questi o se fate soprattutto una professione medica questi vi aiutano a rispondere a classiche domande dei pazienti ok tipo eh ma ho su internet ho letto che i cosi le cosi di cera nell'orecchio tolgono il cerume ok qui c'è scritto come rispondere a questa affermazione non è vero non puliscono le cosi di cera mi dispiace avervi rovinato la vita comunque sia quindi riassumendo quali sono i consigli i consigli sono leggi trova un genere che ti piace e leggi quello non c'è un genere giusto o un genere sbagliato questa è una cosa importante da capire non c'è un genere che vale la pena leggere e un genere invece che è dei poveri e quindi noi lo dobbiamo schifare quindi non iniziare a leggere alla ricerca del tempo perduto perché è improbabile che arriverai alla fine dopodiché vabbè un ebook potrebbe essere d'aiuto se ti aiuta a leggere più facilmente più comodamente non perdi le pagine eccetera libri invito alla lettura ce ne sono tanti altri questi sono alcuni di quelli che vi ho detto io e poi alla fine proprio nel messaggio di Francesco c'era un punto interessante perché ho già parlato di questa cosa e dice se qualcuno sta leggendo il libro nello stesso periodo per parlarne e stimolarsi c'è un club del libro che è una cosa che volevo fare proprio sul in questo caso saggi scientifici sì questo funziona particolarmente bene cioè per esperienza funziona molto bene perché tu hai non so in questo mese leggiamo questo libro ok non sei fa l'effetto star wars o l'effetto trono di spade o l'effetto dark ok non sono solo io che guardo qualcosa ma tante persone che lo guardano ne parlo mi aiutano a capire più facilmente che cosa sta succedendo mi aiuta ad andare avanti star wars praticamente c'è al di là dei film c'è tutto quello che ci ruota intorno nel mondo che ci ruota attorno che lo rende immortale ok tu puoi parlare con un sacco di persone di quell'argomento lì e poterne parlare è uno stimolo per saperne di più e saperne di più è uno stimolo per continuare a leggere quindi ad esempio prima o poi farò un club del libro scientifico qui su youtube dove che ne so consiglio un libro e lo leggiamo va bene niente vi saluto con che cosa vi saluto oggi ma boh niente oggi con niente anzi no sulla strada che è qua che ci osserva da un tot arrivederci